Per noi un bambino è un bambino, se muore in Sierra Leone ci piange il cuore anche se è così lontano. Invece di preoccuparsi delle nascite in provincia di Arezzo, la ASL Toscana Sud-Est si preoccupa di favorire le nascite sicure in Sierra Leone. È durissimo l'intervento del consigliere regionale della Lega Nord Marco Casucci sul tema delle nascite, mettendo a confronto quello che accade in provincia di Arezzo con il sostegno alle nascite sicure in Sierra Leone. Da tempo, dice Casucci, abbiamo sollevato il problema del punto nascite a Bibbiena che è stato chiuso e adesso le donne casentinesi devono recarsi ad Arezzo per partorire. E quello di partorire per strada non è più neppure un rischio visto che nel 2017 un bambino è stato fatto nascere al pronto soccorso. Carenze di questo tipo non sono più ammissibili, tanto più che regione ASL Toscana Sud-Est si preoccupano di favorire nascite sicure in Sierra Leone. Soldi pubblici per un paese straniero mentre si abbandona una fetta di territorio regionale come quello del Casentino, prosegue Casucci. Da tempo ci battiamo affinché non vi siano dei potenziamenti nelle strutture sanitarie in Toscana. E al consigliere regionale della Lega Nord arriva pronta e diretta la replica del direttore generale Enrico Desideri. Per noi quei medici, quegli infermieri, quelle ostetriche che a loro spese, non pagati, a loro spese vanno laggiù e dedicano il loro tempo libero per salvare quei bambini, quelle mamme. Sono persone a cui dobbiamo tutto. E allora io invito chi parla di questi temi di ricordarsi che, come ha detto l'OMS, non lasciamo nessuno indietro, siamo tutti uguali. E poi, insomma, se li aiutiamo lì, se facciamo tutto, perché lì possano sopravvivere forse alcuni fenomeni che anche noi non vorremmo, non si verifichano. E poi, insomma, se facciamo tutto.